Anas, triballi in 131 in sottretto da Inugoro a Terranova. Anas spende ente 10 milioni di euro per ponere in sesto tutto su Ammino. Se è stato tale in 131, in sottretto in Zunga sa provincia Inugoro in Terranova, se Anas pensate di spende prude ente 10 milioni di euro per mezz'ora su Ammino. Sui triballi sono esserati in diversi momenti, ponere danno al traffico. Debbiamo tornare a fare s'asfalto e a inviare tutto su sinzalli e stradali, e ponere a norma delle gallerie, uno triballo lungo e in 2 km. Anas, a causa del dirigente artesanale, dobbiamo ponere s'asfalto nuovo, a esso in alli sponere a posare i sabbi in su Ammino e ponere su sinzalli e nuovi. Sui triballi sono già cominciati e altri dobbiamo già cominciare, una spesa di 3,1 milioni di euro. Dobbiamo ponere il sesto battuto dei ponti, 7 in sottretto di Nugoro e a terro setto in sottretto di Terranova. Dobbiamo spendere 8 milioni di euro, sono stati 80 milioni, lo siamo appoggiati per aggiustare la galleria dei couponi di Santo Francisco, di Scala e la galleria dei Berruiles.